Terni perché comunque sia conoscevo il blasone della società e comunque sia Terni non lo dico io ma lo dicono i numeri, la storia che comunque sia è una piazza importante che non ha nulla da invidiare magari anche a qualche altra società che invii o addirittura in A. Niente, mi è bastato sentire il mister 30 secondi per capire che quest'anno a Terni si faceva sul serio e c'era un progetto che comunque sia ti poteva portare ad arrivare a grandi livelli. A. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti